Cruciale e problematica allo stesso tempo, quando si parla della FIPILI, adeguamento e messa in sicurezza, restano due obiettivi fondamentali. Per questo iniziano importanti interventi per oltre 5 milioni di euro che a fasi alterne, con la completa sospensione estiva e l'introduzione del lavoro notturno, interesseranno il tratto compreso tra Montelupo Fiorentino e quello di Empoli Est. Tre chilometri complessivi che verranno suddivisi in zone e fasi di lavoro fino al 2023. Per impattare il meno possibile sull'utenza, il lavoro quotidianamente sarà sospeso durante gli orari a maggior rischio traffico, al mattino e alla sera. Tra gli interventi il risanamento profondo della pavimentazione, la sostituzione delle barriere di sicurezza e fonoassorbenti e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Naturalmente questo sarà l'ultimo dei lavori gestiti dalla regione, perché sapete che vogliamo costruire questa Toscana Strada S.P.A. e quindi una società di gestione che abbia la specificazione per poter affrontare quelli che non possono e non devono essere più solo lavori di manutenzione, ma progressivamente lavori di allargamento fino a definire le corsie di sicurezza e dove il territorio lo consente arrivare in prospettiva alle terze corsie sulla FIPILI. Questi lavori erano necessari, l'ingegnere De Crescenzo sarà il direttore dei lavori e ha a lungo elaborato e preparato lavori che consentono di alzare lo spartitraffico in quel punto da Monteluto a Empoli troppo basso rispetto a ciò che richiede oggi le condizioni di sicurezza, di avere un asfalto che offra maggiore sicurezza perché ha le caratteristiche per evitare quello che sono solitamente gli incidenti derivanti proprio dal fondo più dissestato e scivoloso. E poi in alcuni tratti la terza corsia che sarà però in realtà una corsia che garantisce sicurezza e quindi la corsia di soccorso. Naturalmente saranno lavori impegnativi e quindi ecco i lavori la notte, ecco la velocità con cui abbiamo messo dei termini molto precisi anche alla ditta che ha vinto l'appalto. I lavori iniziano il 23 marzo, abbiamo organizzato due fasi distinte, tutto davvero volto a mitigare le difficoltà che con la compresenza di traffico queste lavorazioni danno. Non solo lavoro notturno ma per tempo avevamo stanzato 500 mila euro a favore della provincia di Pisa per lavori di miglioramento che hanno realizzato e quindi in coerenza e nel periodo di lavorazione sulla FIPP lì sarà autorizzato il traffico pesante sulla Bientinesi. Grazie.